Siamo con Fulvio Baresi, responsabile marketing informatica lombarda, che ci dimostrerà con una demo come il mondo dell'elettrico, dell'idraulico, dell'illuminazione, della videosorveglianza e anche altri, si possano parlare grazie ad un unico sistema di comunicazione e di gestione. Esatto, era importante dal punto nostro di vista di ampliare l'orientamento della domotica così come fino ad oggi l'abbiamo visto, cioè un semplice controllo di tapparelle, di luci, perché è chiaramente molto di più un'abitazione più complessa e soprattutto volevamo proporre un prodotto facile da usare, un prodotto economico perché la domotica non è una cosa per pochi, anzi sebbene applicata e progettata all'inizio paradossalmente può essere addirittura più economica. Pertanto utilizzando strumenti che utilizziamo tutti i giorni come un iPad o un iPhone abbiamo sviluppato un prodotto insieme a degli amici dell'Ergo Solution e li abbiamo integrati facendo appunto parlare in Connex e in IP che sono due linguaggi, due standard internazionali. Diciamo che l'obiettivo era creare un'interfaccia estremamente semplice e facile da usare, come si può vedere, facilmente intuitiva, quindi una lampada e una lampada, se la lampada si accende abbiamo capito che l'abbiamo accesa. Possiamo gestire chiaramente più piani ma soprattutto abbiamo un comodo menu a tendina, il menu a tendina ci permette di gestire illuminazione, motorizzazione, riscaldamento, telecamere, sicurezza e energia. Le motorizzazioni sono molto facili da gestire, molto intuitive, è sufficiente quindi di immerare, aprire al 34% ed immediatamente possiamo vedere che la nostra finestra è aperta in quel modo. Possiamo avere un menu generale per cui dobbiamo uscire di casa, è sufficiente premere in questo modo e tutte le tapparelle della casa scendono. Possiamo controllare ovviamente il riscaldamento, possiamo vedere lo stato della pompa, della caldaia, dei collettori controllando direttamente le testine. La cosa poi molto importante in un'abitazione moderna è data dalla sicurezza e quindi la videosorveglianza per noi ha una importanza veramente notevole. Per questo motivo abbiamo scelto telecamere del gruppo Mobotix perché ci consentono con una semplicità di questo tipo di andare a fare degli zoom ottici tali per cui sia molto semplice poter vedere se qualcuno è entrato e magari identificarlo e provvedere a fare le eventuali denunce. Dicevamo anche sulla sicurezza, tante volte i bambini nelle nostre abitazioni cadono nelle piscine, avere una telecamera che ci consente di monitorare lo stato delle situazioni e che ci dia un allarme nel caso in cui il bambino cade, beh probabilmente ci può salvare la vita. Altra cosa molto importante è la sostituzione di tutti i telecomandi di casa. In casa ormai abbiamo di tutto, è inutile avere 54 telecomandi perché li perdiamo tutti, ne abbiamo uno solo. Possiamo gestire la nostra tv, il Blu-ray, la Apple TV, lo Sky, il recorder, le tv in camera. Tutto con estrema semplicità e possiamo utilizzare tutti i device che il cliente ha già in casa. Quindi non è un prodotto proprietario, il cliente non è obbligato a comprare quello che noi gli proponiamo. È lui che sceglie gli oggetti e noi facciamo in modo che questi parlino e si capiscano e diano a lui il servizio di cui necessita. Noi abbiamo dato enfasi esclusivamente a un prodotto che è Mobotix. Perché? Perché Mobotix ci offre un prodotto semplice, IP, totalmente flessibile, di caratteristiche tecniche elevatissime che si presta alla domotica in modo particolare nonché a un grado estetico di buona qualità e a un livello economico importante. Ecco che abbiamo qui infatti Alberto Vasta, Business Development Manager di Mobotix al quale quindi chiediamo quali sono questi punti di forza della vostra tecnologia che vi evidenziano? Allora Mobotix fondamentalmente è una software house, quindi già il concetto stesso di tecnologia per noi significa applicazione. Applicazione che fino ad ora per Mobotix è stata integrata nel mondo dell'home automation, del building automation e che in questo momento decide di impattare direttamente il mondo della domotica. I nostri punti di forza sicuramente sono la risoluzione delle immagini a 3,1 megapixel, le applicazioni che cercano di dare applicativi attinenti anche all'analisi video, quindi tutto ciò che ha a che fare una vera e propria analisi da parte della telecamera in una soluzione decentralizzata, quindi direttamente a bordo telecamera. E la novità di quest'anno per noi è una telecamera estremamente piccola, la più piccola telecamera IP al mondo in questo momento, con visione emisferica a 360 gradi si è installata a soffitto, a 180 gradi si è installata a parete, che vuole dare chiaramente una novità dal punto di vista installativo, quindi ridurre al minimo l'impatto visivo di una telecamera installata, perché stiamo parlando appunto di domotica. Benissimo, ringraziamo quindi Informatica Lombarda e Mobotix.